Un altro passo in avanti per un'opera attesa da anni. Il Comune di Belgioioso ha ricevuto la validazione del progetto della tangenziale. Tutti i documenti verranno poi consegnati alla provincia. I tangenziali di Belgioioso oggi è stato consegnato al Comune di Belgioioso la validazione del progetto definitivo da parte dello studio di ingegneri e architetti di Bologna a cui avevamo affidato questo incarico. L'iter è stato come sempre, come tutti questi iter lunghi, complicati, atto di difficoltà, però anche questo step è stato superato. Penso la prossima settimana o negli ultimi giorni di questa consegnerò ufficialmente al Presidente della provincia Palli il progetto definitivo con anche la validazione. Il Comune di Belgioioso si è fatto carico di tutti i costi del progetto per oltre 250 mila euro. L'amministrazione provinciale in passato aveva assicurato un contributo che però non è mai arrivato, sottolinea il Sindaco Zucca. Ora c'è una nuova sensibilità e l'iter è entrato nella fase clou. Nuova sensibilità, nuova sensibilità grazie al consigliere regionale Verni, grazie a tutti gli altri consiglieri regionali Villani, Mora e Invernizi. La regione Lombardia ha approvato in due diverse delibere il finanziamento della tangenziale di Belgioioso, in verità una promessa di finanziamento ma comunque una cosa molto importante e finalmente sono arrivati fondi Stato-Regione destinati alla provincia per la realizzazione dell'opera, 20 milioni di euro. Ecco, questo è veramente un passo definitivo. La tangenziale è una scommessa sul futuro, conclude il Sindaco, un progetto che rivoluzionerà la viabilità non solo del Basso Pavese ma anche quella tra la Lombardia e l'Emilia Romagna. L'opera non è compiuta, ci vorranno ancora 6-7 anni ma la strada è stata intrapresa e quello di oggi è un ulteriore passaggio. Sempre il Comune di Belgioioso ha finanziato la validazione del progetto a altri 30 mila euro che si aggiungono agli 80 mila e ai 150 mila. Voi capite che per una città come Belgioioso impegnare più di 250 mila euro per un'opera che in teoria è a carico della provincia è una scommessa sul futuro. Ma è una scommessa che noi volentieri abbiamo fatto e che vogliamo vincere insieme alla provincia, alla regione e allo Stato per dare finalmente un'infrastruttura fondamentale alla Basso Pavese, alla provincia di Pavia e alla regione Lombardia. Speriamo che gli altri non deludono un'altra volta i cittadini.